Musica Una lottizzazione abusiva è stata sequestrata in località Ispasturas Bannas nelle campagne di Oristano, in tutto 5 gli indagati. Il provvedimento, disposto dal GIP del Tribunale di Oristano e in Nisse Silpinello, è stato attuato dal Nucleo Investigativo Provinciale Ambientale del Corpo Forestale. Le costruzioni in prossimità dell'ex zuccherificio sono state realizzate in una zona agricola e in violazione alle leggi di salvaguardia paesagistica della fascia costiera previste dal Piano Paesagistico Regionale. I 5 indagati, tutti residenti a Oristano dai 28 ai 66 anni, dovranno rispondere dei reati di violazione edilizia per aver costruito alcuni fabbricati destinati a residenze e scuderie in assenza di concessione e per aver realizzato gli immobili in area sottoposta a vincolo. Le indagini hanno accertato che singoli lutti sono stati originati da un unico appezzamento di circa 1000 metri quadrati, frazionato in tre proprietà all'interno delle quali sono stati realizzati i manufatti. Tale attività segue un'altra analoga effettuata sempre dal personale del Corpo Forestale, la scorsa estate nelle immediate vicinanze. La zona agricola nella quale sono stati realizzati gli abusi non risulta inclusa nella cosiddetta area di sostegno e sviluppo all'attività identitaria zootecnica equina, denominata ECUS. Il PUC di Oristano, invece, prevede che per l'edificazione nelle zone agricole a uso abitativo, il lotto minimo richiesto è pari a un ettaro. Per i reati contestati è prevista la demolizione o la confisca dei fabbricati, l'arresto o l'ammenda da 15.000 a 51.000 euro. È stato colto all'improvviso dal personale della Guardia Costiera di Oristano a pescare ricci di mare nelle acque dell'area marina protetta Sinis Maldiventre. A finire nei guai un ragazzo residente a Narbulia. È importante ricordare che l'attività di pesca del riccio di mare all'interno dell'area marina è vietata ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza numero 8 2017 che disciplina la pesca sportiva. Al trasgressore sono state sequestrate le attrezzature utilizzate per la pesca, ovvero tre coppi, un rettino fissato ad un galleggiante, muta maschera e pinne, una bombola di ossigeno completa di erogatore e un rampino. Il giovane è stato denunciato all'autorità giudiziaria competente per violazione delle norme contenute nella legge quadro sulle aree marine protette. In controlli degli uomini della Guardia Costiera proseguiranno anche nei prossimi giorni e interesseranno tutti i principali punti di accesso al mare utilizzati dai pescatori professionali e sportivi per la pesca del riccio di mare. Presente nelle campagne di sedilo del materiale di particolare interesse storico-archeologico. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ghilarza, coadiuvati da quelli dello squadrone eliportato cacciatori di Sardegna e della stazione di sedilo, impegnati in un servizio preventivo finalizzato al controllo delle campagne e del territorio, nel perquisire la cantina dell'abitazione di un elevatore, 51 anni, residente a sedilo, si sono trovati di fronte ad un vaso in eccellente stato di conservazione e ad altri frammenti di particolare interesse storico-archeologico. Il vaso, verosimilmente di origine greca riferibile a Corinthos, molto raro, potrebbe risalire al VI secolo a.C. Il reperto, sequestrato dai militari della stazione di sedilo, è stato immediatamente inviato al nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari, che insieme agli specialisti della soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Cagliari, lo sottoporranno ai necessari esami tecnico-scientifici di laboratorio per stabilirne l'epoca e la provenienza. Un referendum inutile, alimentato esclusivamente da esigenze di politica locale. Abba Noa ha spezzato il lungo silenzio mantenuto sino ad oggi sul referendum consultivo che si terrà domenica 19 marzo a Uristano, per permettere ai cittadini di dire se vogliono che il Comune faccia o no i passi necessari per riprendersi la gestione diretta del servizio. Tale referendum sarà inefficace, si legge in una nota diffusa dal gestore unico, perché non comporterà l'uscita da Abba Noa, poiché non avrà effetti sulle modalità di affidamento del servizio idrico integrato che è regolato da leggi nazionali e regionali. Fa specie, continua la nota, che per sostenere argomenti inconsistenti si attacchi la più importante impresa pubblica della Sardegna, che fa investimenti per milioni di euro, ammodernando e regolarizzando un sistema idrico e fognario, spesso in condizioni fuori dalla legge, dando lavoro e occupazione qualificandosi come il primo investitore dell'isola. Proprio nell'Uristanese, solo negli ultimi tre anni, il gestore unico del servizio ha attivato investimenti quantificabili in circa 142 milioni di euro, di cui 40 per la sola città di Uristano. Questo a testimoniare l'impegno, conclude la nota, e anche le dimensioni dello sforzo economico necessario per far fronte allo stato delle reti e degli impianti ereditato dalle gestioni precedenti, infrastrutture vecchie di almeno 50 anni e condotte con la brodo, fattiscenti, corrose e con percentuali di dispersione altissime. Il Consiglio Comunale di Uristano ha approvato con 13 voti a favore il bilancio di previsione 2017 ed il documento unico di programmazione. I voti sono quelli della maggioranza di centrosinistra, mentre le opposizioni non hanno votato. Nella replica agli interventi che si sono succeduti in aula, l'assessore Uda ha dato una risposta ai quesiti dei consiglieri. È stata citata senza del bilancio partecipato, ma con le modalità con le quali oggi si costruisce un bilancio che deve avere una visione prospettica di ampio respiro e d'altra parte deve conoscere i bisogni, non si può pensare ad un bilancio fatto di mance. Il processo di formazione del bilancio è stato corretto e virtuoso, ha aggiunto l'assessore, e lo dimostra il fatto che in questi anni non ci sono mai stati tanti emendamenti. Gestione del patrimonio, opere pubbliche, assegnazione della colonia ex ECA sono risposte ai bisogni della città. Sulle questioni come il Consorzio per le strade vicinali, le risorse erano nelle variazioni che questo Consiglio non ha approvato. La tassazione è rimasta ferma, ha concluso Uda, ed è tra le più basse d'Italia e questo è un buon risultato, importantissimo il successo con i derivati. Giovedì 23 marzo alle ore 15.30 presso la Sala Consigliare del Comune di Oristano si terrà un seminario denominato Nuove opportunità per favorire l'accesso al credito delle imprese. Il seminario fa parte del ciclo di iniziative organizzate dallo Sportello Europa con lo scopo di introdurre strumenti e soluzioni che le piccole e medie imprese possono adottare per migliorare l'ottenimento e la gestione del credito attraverso gli strumenti pubblici e privati. L'evento nasce dalla consapevolezza che l'imprenditore, oggi ancora più che nel passato, necessita di un diverso approccio al credito, caratterizzato da una profonda trasparenza e da una buona conoscenza degli strumenti pubblici e privati messi a disposizione e a suo sostegno. Sarà anche l'occasione per presentare il Fondo Creo, un innovativo strumento che il Comune di Oristano sta mettendo a punto nell'ambito del programma Oristano Est per la riqualificazione della periferia est della città, grazie al cofinanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'evento è gratuito e aperto a tutti gli interessati. Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo disponibile sul sito istituzionale www.comune.oristano.it. Una sagra è parte integrante dell'identità storica di una comunità e di un paese. Così può essere definita la Sagra del Carciofo che si terrà sabato 18 e domenica 19 marzo a Sia Maggiore. Giunta alla venticinquesima edizione, la manifestazione si identifica con il tessuto sociale del territorio e che sintetizza la forza economica di questa porzione del Campidano di Oristano, dove a farla da padrona è proprio l'agricoltura. Un quarto di secolo che coincide con il ventesimo anniversario di vita della Proloco del Paese che fin dalla sua nascita ha dedicato molta della sua attività alla crescita e all'organizzazione della manifestazione. Due giorni dedicati non solo alla riflessione su come può progredire la coltivazione del carciofo ma anche per assaggiare e gustare le ricette di piatti a base di carciofo. La Proloco ha organizzato diversi momenti nei quali sarà possibile avvicinarsi alla tavola e alle prelibatezze locali. Ancora una volta l'impegno dei volontari e volontari della Proloco con una dirigenza quasi tutta al femminile ha saputo centrare l'obiettivo organizzando con il patrocino del Comune e del Paese una serie di eventi che riempiranno l'intera giornata di domenica e non solo il pomeriggio. Sabato 18 marzo alle ore 16.30 presso l'Aula Consigliare del Comune si terrà il convegno La Sagra Volano dello Sviluppo del Territorio. Domenica 19 marzo alle ore 10.30 apertura stand mostra in Aula Consigliare e in Ex Scuola Elementare. Ore 13 pranzo in piazza a cura delle Proloco locali e vitella al rosto a cura del Comitato di San Costantino Magno. Ore 17 degustazione di piatti a base di carciofo. Esibizione musicale con Totore Chessa. A unasola live la懦ione che non passano. La librareariamente è bella in un'unicaALL. E' alea to articulare il todo il tao. Lo è una sortaata diаботa anton scveto. Lo è cantico.